Visitare posti come questo ti fanno capire quanto viaggiare sia la cosa più bella del mondo. Ci troviamo a Kyoto e questo è il santuario di Fujiminari. È famoso per le sue numerose porte arancioni, chiamate tori. Le porte sono 10.000 e ognuna di esse è stata donata dai fedeli. Le scritte giapponesi indicano i nomi dei donatori e la data. Una volta arrivati, non fatevi ingannare dall'incredibile folla di turisti. Alle prime salite molti molleranno il colpo e potrete godervi la pace di questo splendido luogo. Infatti, per raggiungere il monte Nari, il punto di arrivo del santuario, bisogna fare un percorso di circa due ore tra salite e scale. Tra i turisti troverete anche tantissimi fedeli che raggiungono questo luogo per pregare e chiedere delle grazie per se stessi o per i propri cari. Ti piacerebbe visitare il Fujiminari? Scrivici nei commenti il tuo desiderio più grande, chissà, magari si avvererà.